Il Caldiero raggiunge i playoff di Serie D, siamo con il presidente Filippo Berti per la prima volta nella sua storia. Un risultato pazzesco per una realtà come Caldiero. Un risultato che potevamo scommettere all'inizio di questa stagione e non l'avremmo mai indovinato. E' chiaro che eravamo partiti con l'obiettivo di salvarci, venivamo da un campionato dove a febbraio avevano congelato le classifiche e nonostante tutti eravamo salvi. Siamo partiti con dei buoni presupposti, stava guardando il gruppo e il gruppo è quello che ha fatto la differenza. Ragazzi straordinari che l'hanno dimostrato in più partite e anche oggi, nonostante le difficoltà, i giocatori che sono subentrati, che magari avevano meno minuti sulle gambe, sono stati straordinari. Ti va di spendere due parole per questi ragazzi, per come si sono legati al mondo Caldiero, per come si legheranno? Perché in tanti poi rimarranno, hanno scelto di vivere poi anni importanti qui a Caldiero. Questo è doveroso, soprattutto perché c'è un interprete e un attore di tutto questo, si chiama Fabio Brutti. Un direttore straordinario, sempre presente, puntuale, conosce i giocatori, conosce la categoria, li ha scelti, li ha curati e li ha rinnovato anche il contratto per l'anno prossimo. E questo è un segno di maturità dei ragazzi, ripeto, non abbiamo solo giocatori, abbiamo anche uomini. Che cosa significa per te a livello personale portare Caldiero, un paese come Caldiero, fino ai play-off di Serie D? Ricordiamo che Caldiero è una realtà anche abbastanza piccola, forse, rispetto alle corazzate che ci sono nel girone, alle città che ci sono in questo girone. In questi momenti è giusto ricordare da dove siamo partiti, perché questo non lo possiamo dimenticare. Siamo partiti nel 2004 con una situazione disastrosa e grazie a tantissime persone, volontari, dirigenti, allenatori, società, un direttivo che mi ha sempre affiancato, sempre dato fiducia e naturalmente i risultati man mano sono venuti. Ma questo è giusto dedicarlo a tutti loro, perché non li possiamo dimenticare anche adesso che siamo nei play-off di Serie D. Era un sogno che forse non pensavo mai si potesse realizzare e siamo arrivati e ce lo godiamo.